Senza generare inutili allarmismi, leggevo poco fa che dalla Groenlandia si è staccato un iceberg grande quanto un calippo. E questo è solo l'inizio. Pensate se per assurdo tutto il ghiaccio presente al mondo all'improvviso si sciogliesse. Diventerebbe praticamente impossibile riuscire a preparare un mojito, per esempio. Ma questo è il male minore. Ovviamente questo è un messaggio rivolto ai giovani. Alcuni scienziati sostengono che se continuiamo di questo passo ci sarà vita sulla Terra per altri 2 miliardi di anni. Dopodiché il calore renderà quest'ultima impossibile. Cosa significa? Dunque sono le 19.10. C'è ancora un po' di tempo. Ogni tanto qualche buona notizia bisogna anche darla. Possiamo ancora fare qualcosa. Possiamo fare qualcosa. Tipo una grigliata, una pizza tutti assieme. Una rimpatriata. Non lo so, vediamoci. Giovedì non ci sono. Anche venerdì. Mercoledì. Mercoledì prossimo. Magari evitiamo di prendere il mojito per lanciare un segnale forte. Patemi sapere. M Grazie a tutti